La provincia di Chieti mette in vendita l'edificio che dal 1980 al 2015 ha ospitato il prestigioso centro ricerche farmacologiche e biomediche Mario Negri Sud a Santa Maria in Baro. È un lotto unico al prezzo di 10.729.000 euro di base d'asta. Lo rende noto il presidente della provincia Mario Pupillo. Il complesso immobiliare situato lungo la strada provinciale 524 ha una superficie fondiaria di 52.000 metri quadrati, la superficie coperta invece di 7.000 metri quadrati. L'immobile, destinato a centro di ricerche, ospita edifici con destinazioni differenti ma strettamente funzionali all'attività di ricerca, oltre a strutture come la mensa, il residence e diversi locali per impianti vari. Un forte interesse era stato espresso nei mesi scorsi dalla molisana Neuromed, ma più che altro per un affitto. Ultimamente si sarebbe interessato anche un competitor dalla capitale. Questo l'abbiamo fatto perché si sono presentate alcune manifestazioni di interesse da parte di istituti di ricerca nazionali che vogliono ripristinare all'interno del Mario Negri e quella capacità che aveva dato su questo territorio veramente un'eccellenza che era quella dell'istituto di ricerca, dei servizi nell'ambito sanitario che sicuramente potrebbero rilanciare quello spazio, questo territorio, dare lavoro a tante persone, tanti giovani che hanno ovviamente qualifiche, lauree adeguate e tutto questo per noi è importante e ancora una speranza, ma l'interessamento che c'è stato ci fa pensare che ci sia la risposta. Abbiamo dato 30 giorni per presentare le varie proposte e sono come Presidente della provincia, ma anche ovviamente come Sindaco di Ranciano estremamente contento, quindi devo ringraziare la struttura del patrimonio, l'ingegnere Ursini, l'architetto Ursini di Chieti, della provincia di Chieti che ha preparato questo bando, siamo fiduciosi e speriamo che lì possa risorgere quel centro di ricerca, di formazione, di studio che Mario Negri aveva rappresentato per tanti anni e che ha una ferita ancora aperta nel nostro cuore.